molti cittadini chiedono senza trovare risposte quanti positivi al covid in questi giorni ci siano a cassibile e a fontane bianche a farsi carico della lamentela e il circolo bartolo in platini di cassibile che si rivolge al sindaco e all'aspot di siracusa in questi giorni a cassibile si vive uno stato di preoccupazione non indifferente i cittadini sono preoccupati per l'aumento dei casi di covid sono preoccupati altresì dal fatto che non abbiamo un'autorità locale che comunichi giornalmente ai cittadini l'andamento della situazione epidemiologica quindi i cittadini sanno le notizie solo per così come come si dice voce di paese quindi chiediamo alle autorità preposte quindi alle autorità sanitarie all'asp in brims ma anche al sindaco che il garante della salute dei cittadini di fornire giornalmente così come avviene in tutti i comuni limitrofi dove i sindaci si fanno promotore di dare le giuste informazioni ai propri cittadini di fornire i dati di cassibile fontanebiana in modo che la popolazione sappia quello che succede e sappia anche come gestire la situazione Grazie a tutti Grazie a tutti.